Contro la giunta Menani si scaglia pure la CGL. Sentiamo Riccardo Querciagrossa. Fra due giorni il sindaco di Sassuolo Gianfrancesco Menani dovrebbe annunciare i nomi di chi andrà a sostituire i tre assessori di missionari. Intanto però la situazione di incertezza preoccupa la CGL del distretto ceramico che chiede una giunta al completo che si occupi dei problemi reali dei cittadini. I problemi reali dei lavoratori vanno dal fatto che la pandemia non è ancora terminata e quindi ci sono tutta una serie di effetti collaterali che questo ancora comporta sulla vita reale dei lavoratori e dei cittadini e dei pensionati. Il problema della cassa integrazione che ancora persiste sia che sia cassa covid che sia invece cassa strutturale visto che qua e là qualche elemento di crisi continuiamo ad averlo e soprattutto abbiamo una dinamica salariale che non va a pari passo con la dinamica inflazionistica. Il sindacato spera che venerdì la crisi politica rientri una volta per tutte e si torni ad una giunta completamente operativa. Noi ci aspettiamo in tempi rapidi che questa situazione vada alla sua normalizzazione in quanto avremo bisogno urgentemente di incontrarci con il comune, con gli assessori che fanno parte di questo comune per discutere che cosa può fare questo comune per aiutare tutte quelle famiglie che continuano a vivere con più di 1000 euro al mese ma devono affrontare una situazione sui prezzi che stiamo vivendo in questi giorni.